Ma vogliamo parlare della plastica monouso? Lo so, lo so, è un argomento spinoso. Quindi pane per i denti di un agente 00 waste. La plastica è una delle grandi invenzioni del secolo scorso. Igenica, resistente, versatile, in una parola sbalorditiva. Allora cosa c'è che non va in lei? Ci risolve un sacco di problemi, alcuni anche sanitarie e sappiamo tutti quanto ce ne bisogna. Vuoi la verità? Molti dei problemi della plastica sono collegati all'uso che ne facciamo e a come la gestiamo una volta che non ci serve più. Pensaci un attimo. La plastica ha un materiale praticamente indistruttibile ed è proprio per questo che la natura impiega secoli per degradarla. Le immagini degli oceani pieni di plastica non hanno bisogno di molte altre spiegazioni, giusto? Quindi evita i prodotti monouso. E se proprio proprio non puoi farne a meno, non abbandonarli in natura. MAI! Su via, siamo nel ventunesimo secolo. La regione Emilia-Romagna ha in corso il progetto Plastic Free ER per ridurre e dove è possibile eliminare gli effetti negativi della plastica sull'ambiente. Puoi sapere di cosa si tratta sul sito. Ora devo andare, ma ricorda che un vero agente 00 waste cerca di evitare la plastica monouso quando possibile. Ha sempre una borraccia con sé. E porta una borsa per riporre la spesa. Perché sì, anche noi agenti segreti andiamo al supermercato. E acquista prodotti sfusi appena può.